Oh, oh! Vedi son forti, ho sua gianza, aspettavo Grazie, mi ci volevo Sei un collezionista, ti piace collezionare le figurine dei calciatori? Ora basta, è ora di piantarla Hai sempre sognato che qualcuno ti portasse il tuo panino preferito a casa? Un sogno che adesso è realtà Da chiama il fame chimica porteranno a casa tua direttamente il tuo panino e non solo, la tua erba da collezione, la legal weed. Taggate le vostre foto con Cancelletto, si va ai fame su Instagram, riceverete dei simpatici omaggi. L'uomo del panino sta bussando alla tua polpa. Sì, pronto, fame chimica, e vuole ordinare. Fame chimica, acqua a Rakan, via Statale 162 e ricordati osso, Cancelletto, si ha ai fame.